Buongiorno a tutti, oggi iniziamo ad aggiungere un ingrediente alla nostra ricetta, finora negli esercizi che abbiamo fatto eravamo sempre un po' limitati dal fatto che i dati su cui il programma lavorava dovessero essere necessariamente quelli che avevo appena inserito da tastiera oppure nei programmi di test e quindi in qualche modo ci limitava sia la tipologia di operazioni che potevamo fare, perché i dati una volta che il programma termina vengono persi, sia anche la quantità di dati su cui lavorare, perché non potevamo pensare di passare un'ora e venti a inserire i dati per poi in dieci minuti far girare un algoritmo che li elaborasse. E allora da oggi iniziamo a prendere l'abitudine di sviluppare i programmi i cui dati stanno su un database relazionale. Quindi aggiungiamo alla nostra architettura di sistema, oltre alla parte di controller, la parte di model, una parte che sarà dedicata a parlare col database. Vedremo prima come funziona, quali sono le classi in Java per accedere al database, la condetta libreria JDBC. Alcuni anni riesce a programmazione di oggetti e nell'ultima settimana fare già qualcosa di questi argomenti, altri anni no, non so quest'anno ma so che poi molti, c'è nato qualcosa, però molti non sono riusciti a seguire quella parte, quindi facciamo un veloce aggancio, ok? In ogni caso. E poi ovviamente cercheremo di costruire sopra la libreria Java quelli che sono i nostri pattern di programmazione che ci permette di andare un pochino più avanti. Allora, questa libreria che ha questa sigla strana JDBC, che cosa fa? Beh, di fatto permette a un programma in Java di fare tutte le operazioni possibili relativamente a una base di dati di tipo relazionale, quindi di quelle che si interrogano con il linguaggio SQL. Quindi possiamo fare delle interrogazioni, delle query, possiamo fare degli inserimenti, delle modifiche, della cancellazione dei dati, eccetera, eccetera. In realtà la cancellazione non l'ho scritto perché io sono sempre un pochino allergico a cancellare, quindi tendenzialmente mi dimentico che è anche possibile cancellare dei dati, diciamo così anche a livello di applicazione è una funzionalità che tipicamente è meglio non avere perché poi è difficile tornare indietro, quindi se costruite un'applicazione piuttosto che cancellare veramente un dato conviene magari marcarlo come cancellato o come non disponibile in caso del bisogno ce l'è ancora lì. Ma a parte questo piccolo dettaglio, questi dati ovviamente saranno da un lato accessibili agli algoritmi al model, dall'altro accessibili in qualche modo all'interfaccia utente. Allora tutto questo è possibile grazie a questa libreria che ha questo nome strano, JDBC. Anni fa JDBC, diciamo così, era una sigla che rappresentava Java Database Connectivity, ma poi hanno detto no, no, non è più una sigla per quello, è una sigla a sé stante, ma va bene. A noi interessa che questa libreria, a parte che è praticamente immutata dai tempi di Java 9, quindi stiamo parlando di parecchi anni fa, non ha avuto particolari evoluzioni, infatti si vede in questi link che ho raccolto dove ci sono un po' di documentazione se volete andare quando avrete bisogno di consultarla, il documento che la racconta, diciamo così, un pochino più in generale risale ancora alla versione 8 di Java e non è più stato aggiornato dalla stessa Oracle. Ovviamente poi la definizione delle classi, le API vere e proprie, ad ogni nuova release di Java viene ricopiata ma è sempre uguale a se stessa, quindi assolutamente non ci sono novità. Come sempre ci troviamo comodi ad esempio a navigare questo sito di questo signore che ha trovato comodo farci dei diagrammi, cui andremo poi a curiosare per capire, vedere anche un po' più comodamente rispetto alla documentazione ufficiale come sono fatte queste classi, quali proprietà hanno. Ciò che ci interessa sapere è che tutti i metodi e le classi che ci servono e le interfacce che ci serviranno sono dentro questi due package, java.sql e java.x.sql. Quindi useremo solo classi da quelle librerie lì e dovremo fare attenzione a usare solo quelle e tra un attimo vi spiego perché. Allora cosa fa JDBC? JDBC permette a chi scrive un programma Java in qualche modo di scriverlo in modo indipendente dal database. Cioè ogni DBMS, voi avete nel corso di base dati se non sbaglio usato Oracle, avete usato MySQL, lo state usando, lo state usando nel corso di web. Esistono vari database in giro, ognuno diverso dagli altri, o meglio tutti implementano il modello razionale, implementano il linguaggio SQL, ma poi ciascuno ha delle modalità leggermente diverse di accesso. L'interfaccia utente sicuramente, ma soprattutto poi le API di accesso in modo che un programma possa interrogarlo. Quindi in qualche modo fare una query su Oracle, fare una query su MySQL richiede procedure anche solo di connessione al database diverse, il modo in cui gli passo la password, il modo in cui gli passo la stringa di interrogazione, il modo in cui ottengo i risultati. Allora JDBC nasconde tutte queste differenze. Dice io so che ci sono tanti database di JDBC, so che sono tutti diversi nelle modalità di accesso, ma alla fine fanno tutti la stessa cosa, quindi io vado a creare un'estrazione sopra che mi permette di vedere i vari database tutti nello stesso modo in un certo senso. E quindi la nostra applicazione che adesso sviluppiamo MySQL, se domani dovessimo cambiare database sottostante, passare a Postgres o a Oracle, lo potremmo fare con uno sforzo minimo, perché noi avremmo programmato rispetto a un database a strato generico che è quello che mi offre l'API di JDBC. Facendo attenzione che ciò che si può astrarre è la connessione e l'esecuzione delle interrogazioni, ciò che invece non si può astrarre sono le varianti, le incompatibilità del linguaggio SQL vero e proprio, perché vi hanno raccontato che SQL è un linguaggio standard, ma non lo è, come tutte le cose standard, in realtà di standard ce ne sono almeno una per ogni database. Solo per darvi un'idea, questo qui è una persona che ha raccolto per un certo numero di anni, poi si è stufato e ha detto guarda non lo aggiorno più, però ha raccolto le differenze tra quello che dice lo standard delle SQL è come alcune cose sono implementate in varie versioni dei principali database. Ci sono alcune cose che sono simili, ma vedete che ogni sezione, ad esempio qua la select, cosa cambia? Qua è quasi tutto uguale, però ci sono delle sezioni ad esempio sul limit che sono diverse, sono delle sezioni soprattutto più avanti sulle date che si comportano in modo completamente diverso. Cosa vuol dire? Vuol dire che io posso collegarmi a un database in modo indifferente rispetto al database, ma quando scrivo una certa query con una certa sintassi devo fare attenzione che alcuni database possono interpretare o estendere in qualche modo la sintassi SQL in modo leggermente diverso da altri. E quindi questo rimane un problema mio, non è un problema che JDB si risolve. Ne parleremo un pochino di più per quanto riguarda le date, che sono sempre una particolare grana e i tipi di data, i tipi SQL che supportano le date. Il resto cercheremo di scrivere SQL semplice, semplice standard che non incappare in questo tipo di trappole di questo tipo di incompatibilità. Per fortuna la compatibilità tende ad aumentare col tempo, nel senso che i produttori di database hanno anche tutto l'interesse a implementare nel modo corretto le varie funzionalità, però contemporaneamente hanno interesse all'innovazione, quindi io ho una nuova funzionalità nel mio database e quindi devo estendere SQL per supportarla, per renderla accessibile ai miei utenti che magari la vogliono usare perché è una cosa che serve, è una cosa utile e quindi devo in qualche modo implementare qualche cosa in anticipo rispetto allo standard. Poi farò di tutto per fare in modo che il modo in cui l'ho implementata io rientri nello standard, ma se il mio concorrente fa lo stesso avrò due modi diversi di fare la stessa cosa e lo standard dovrà prendere una, quindi in qualche modo questi disallineamenti fanno parte del normale sviluppo tecnologico. Quindi questo è il primo motivo per cui ci sono queste incompatibilità, chi sviluppa l'innovazione è avanti rispetto agli standard, sempre, ma per definizione di standard, di questo non si può fare nulla, è sano tra virgolette. L'altro motivo per cui ci sono queste differenze è la lock-in, il famoso effetto di lock-in per cui se io ho sviluppato per un database avrò usato delle cose specifiche di quel database e se queste cose sono specifiche e per me sono critiche diventa più complicato e più difficile per me migrare a un database diverso, perché dovrò andare a rivedere tutte le query. E quindi chi mi vende un database ha tutto l'interesse a farmi usare delle cosette che solo lui supporta nel modo in cui le supporta, così io rimango fedele, non per volontà ma per convenienza, perché dopo un po' mi costa di più cambiare che non rimanere. Quindi qua ci sono gli aspetti di mercato che poi alla fine percolano fino all'interno la sintassi del SQL, ma al di là di questo JDBC in qualche modo cerca di lenire il problema dandoci un'architettura su più livelli, in cui cosa vediamo? Vediamo nel livello più alto questo scatolo che si chiama Java Application, cioè il nostro programma. A livello più basso c'è il database e qui ne fai alcuni esempi di database diversi. È chiaro che noi non andiamo a collegarci a tutti questi contemporaneamente, uno solo, insomma, qui ci sono i dati, l'architettura JDBC prevede un API standard uniforme, quindi una serie di classi e metodi, questa API qua è fatta essenzialmente in una serie di classi, anzi di interfacce più che non di classi, lo vedremo tra un attimo. E quindi a noi interessa la documentazione e il funzionamento di questa API JDBC. Questa ovviamente essendo generica, essendo unica, non conosce nulla, non conosce nessun dettaglio dei singoli database con cui andremo a parlare, dei singoli DBMS con cui andremo a parlare. Perché i vari dettagli sono implementati da delle classi specifiche che prendono il nome di driver, cioè il JDBC, c'è il driver di JDBC per parlare con il database di Oracle, quello per parlare con il SQL Server di Microsoft, quello per parlare con MySQL, eccetera, eccetera. Cioè noi abbiamo un API qua davanti che è fatta di interfacce, in certo senso, e dei driver che sono fatti di implementazioni, cioè di classi che implementano quelle interfacce. Quindi se noi programmiamo relativamente alle interfacce, poi l'implementazione, quando noi chiamiamo un metodo, il primo che chiameremo si chiamerà getConnection, cioè apri una connessione col database, la classe, l'oggetto, il metodo che rappresenta getConnection è definito qua, a livello di interfaccia. L'implementazione sarà definita dentro una classe driver che è specifica del database che uso. Quindi io posso scegliere le implementazioni diverse a seconda del database con cui devo collegarmi. In mezzo chi c'è? In mezzo c'è una classettina che fa i collegamenti tra le due cose. Dice va bene, questa è un'interfaccia, queste sono tante classi che implementano quell'interfaccia, ma quale vuoi usare tu adesso? E quindi in qualche modo questa classe è l'unico scopo di caricare uno oppure l'altro oppure l'altra classe in funzione del tipo di connessione che cerchiamo di aprire, del tipo di database con cui cerchiamo di collegarci. Tutto questo è abbastanza trasparente per noi. La differenza è che fino a qui, fino a questo livello, siamo nella libreria standard Java, quindi queste interfacce e questa classe driver manager che di fatto fa da collegatore o da caricatore di classi, fanno parte del famoso package java.sql. Le classi sottostanti invece no, sono e devono essere separate, cioè te le fornisce chi ti fornisce il database. Non sono nell'installazione di Java chiaramente. Se domani vi inventate un nuovo database, se volete che i programmatori Java possano usare il vostro database, non solo dovete fornire il database tutto ottimizzato, tutto bello, tutto documentato, ma anche dei driver per i vari linguaggi, tra cui Java, in modo che chi sviluppa applicazioni possa in qualche modo accedere al vostro software. Allora, in pratica, in pratica tutto questo ragionamento si concretizza in sei passi. Cioè ogni volta che vogliamo fare una query su un database, parlo di query in senso generale, la maggior parte delle volte faremo delle query di interrogazione, quindi delle select, però potrebbero anche essere delle insert, delle update. Non faremo quasi mai delle query di data definition language, quindi create table, insert, alter table, queste cosette qua, con quella sintassi molto scomoda, che forse vi hanno insegnato base di dati, perché la creazione della tabella la faremo interattivamente, non la faremo sicuramente da programma. Ma invece da programma dovremo lavorare con i dati, non con la struttura del database. Allora, ogni volta che vogliamo fare un'interrogazione passiamo attraverso questi sei passi. E proviamo a magari farli insieme, ok? Allora, il primo passo è ovviamente, sarebbe il passo zero, è dotare il nostro progetto di una driver JDBC. Perché altrimenti abbiamo detto dentro la libreria standard non c'è nessun driver e quindi non mi posso collegare a nessun database. Quindi dovrò installare nel mio progetto il driver JDBC per il tipo di database che usiamo noi. Ok? E quindi quando il programma parte deve riuscire a trovare quella libreria. Questa è una cosa un po' strana, la vediamo tra un attimo, che quella libreria è nel nostro progetto ma noi non la usiamo. Nel senso che noi non avremo mai nessuna nel nostro codice, nessun import di quella libreria lì. Il nostro codice non sa di fatto quale driver viene usato fino a quando il programma non parte e il driver manager decide quale driver usare. Quindi è un'importazione un po' strana, nel progetto metto una classe ma se vado a vedere il codice sembra che non la usi da nessuna parte. La classe non era un package, era una libreria. Perché la ricerca della classe non avviene attraverso l'import quando compilo il programma ma avviene dal driver manager quando il programma parte a runtime, dinamicamente. Quindi può darsi che il programma compili ma poi non parte perché non c'è il driver giusto. Allora, queste classi JDBC driver prendono il nome nel mondo MySQL di connector. Quindi dicevamo questa classe driver ce la fornisce chi ci fornisce il database. Quindi nel caso che usassimo MySQL come database ad esempio a questo indirizzo qua si può scaricare si possono scaricare vari tipi di librerie che vengono chiamate connector per i vari linguaggi per il C, per il Python eccetera a noi serve quello per java e ci da un jar di questo genere quindi una libreria java che possiamo aggiungere al nostro progetto. Oppure se questo è un modo diciamo aggiungere direttamente il jar al progetto. Oppure visto che i nostri progetti già per la parte di java effects usano Maven come metodo di importazione delle librerie basta aggiungere nel file pom.xml che contiene le dipendenze di Maven questo snippet qua di codice che dice ok aggiungiamo al progetto questa libreria MySQL con connector java. Questa è l'ultima versione che ho guardato ieri. Se non hanno riasciato una nuova questa notte dovrebbe essere l'ultima. e quindi fa sì che quando lui quando Eclipse crea il progetto aggiunga anche questa libreria se la scarica da solo se la aggiunge. Ok? Se usate gli archetipi quando create il progetto con l'archetipo in realtà questo c'è già dentro quindi non dovete farlo. Non è necessario farlo. Ok? Questo per quanto riguarda MySQL il driver ufficiale fornito da MySQL. Questo driver è una classe che sta dentro il nome di questa classe è com.mysql.jdbc.driver ma noi questa classe non la useremo mai non la vedremo mai esplicitamente. Quindi prima dicevo le classi che ci servono sono dentro java.sql questa è una classe che non è dentro java.sql con.mysql.robaccia è un'implementazione noi quell'implementazione non la richiamiamo mai direttamente. La richiameremo sempre indirettamente. Se è da si vedere MariaDB che poi alla fine è compatibile al 90% con MySQL perché era lo stesso progetto e poi si è diviso anche i sviluppatori di MariaDB hanno pubblicato un connector che anche qua volendo uno se lo scarica oppure aggiunge nelle dipendenze anziché il connettore di MySQL quello di MariaDB. Tra l'altro nello stesso progetto possono convivere connettori diversi. Sono lì pronti, librerie pronte e poi solamente quando io apro una connessione database che come vediamo tra un secondo lui sceglierà la classe opportuna. Ok, quindi uno di questi due. Tra l'altro come avevamo purtroppo scoperto, se non sbaglio, nel corso di un paio di anni fa questi due connector si comportano in modo leggermente diverso. Quindi alcune query che da una parte si comportavano in un modo dall'altra si comportano in un modo diverso, soprattutto dal punto di vista delle prestazioni. Ce ne siamo accorti poi, diciamo così, in laboratorio quando non capivamo perché ad alcuni le cose funzionassero in modo diverso. Comunque, nell'archiettipo Maven del nostro progetto dovrebbe già esserci tante librerie, tra cui già quella del client MariaDB. Bisogna solo, eventualmente, se non fosse l'ultima versione, quella dell'archiettipo che avete, basta andare a editare il pom.xml e mettere il numero di versione, anche qua quello che ho fotografato ieri. L'ultimo era 3.1.2. Il più recente va bene, ma anche quello un pochino più anzianotto. Per il tipo di cose che dobbiamo fare è più che sufficiente. Ok, allora, sapendo che devo aggiungere al mio progetto questo, il primo passo è quello di aprire una connessione con il database. Cioè io ho il mio programma Java, che sta qua, ho il mio database che sta là, e per potersi parlare in qualche modo devo aprire un canale di comunicazione. Aprire e poi chiudere, quando avrò finito. Questo canale di comunicazione si chiama connessione, connection, e ogni connessione è identificata da un indirizzo o da una serie di parametri. Cioè io devo dire, ok, il database su che computer sta, su quale macchina sta, su che server sta, qual è il database schema a cui voglio accedere, perché un singolo DBMS può contenere tanti database al suo interno, qual è il mio username, qual è la mia password di accesso per collegarmi con il database, più eventualmente altri parametri, ma questi quattro sono fondamentali. Dove sta, come si chiama il database e quali sono le mie credenziali di username e password per potermi collegare. Queste quattro informazioni, più alte e opzionali se vogliamo, le codifichiamo in un'unica stringa, che sembra una URL, tipo un indirizzo web, che è fatta in questo modo. Nella prima riga c'è la parte, diciamo così, la regola generale e sotto ci sono elencati i vari pezzettini da cui è composta. Allora, il primo pezzettino dice che questo indirizzo è relativo a una connessione JDBC. Quindi JDBC due punti, inizia sempre così la stringa di connessione. Poi, dopo i due punti c'è un altro pezzettino, un altro frammento che indica quale tipo di database utilizziamo. Quindi JDBC MySQL dice ok, questa è una stringa di connessione a un database MySQL, oppure questa è una stringa di connessione al database MariaDB, oppure forse OC9, stringa di connessione a un database Oracle, eccetera, eccetera. Questa seconda parte, questo secondo frammento, viene usato, lo vediamo tra un secondo, dal driver manager per decidere quale driver implementare. Ciascuna classe driver risponde, tra virgolette, ad una o più string di questo tipo. Ad esempio, il driver JDBC di MySQL risponde ovviamente a MySQL. Il driver JDBC di MariaDB risponde sia a MariaDB sia a MySQL, perché vuole essere compatibile. Quindi dice, se tu hai caricato il driver MariaDB e hai una connessione a JDBC due punti MySQL, io lo posso fare e quindi posso caricare il driver di MariaDB anche con una stringa di tipo MySQL. Non è vero e viceversa, perché si odiano un pochettino i due. Ok, quindi prima di tutto il tipo di database, noi diciamo così per genericità useremo MySQL, così funziona sia con MySQL che con MariaDB. Poi, dove sta il database? Dove gira il server? Quindi, barra barra, come tutte le urle, e poi c'è il nome dell'host e eventualmente la porta su cui gira. Allora, normalmente il nome dell'host è la macchina locale, per noi che stiamo sviluppando su un PC solo. E quindi il database e la programma Java stanno tutti sullo stesso computer. Stanno entrambi sullo stesso computer. E allora mi collego a un database che gira sul mio stesso computer. Normalmente localhost è il sinonimo del proprio computer. In alcune combinazioni localhost non funzionava, bisogna mettere l'indirizzo di rete che è 127.001 per il localhost. E poi la porta, la porta di rete, a cui collegarci in questo server. Normalmente MySQL e MariaDB, come porta di default, usano la 3.306. E quindi se usiamo questa non è necessario specificarla, perché il driver lo sa che quella è la porta di default. Queste sono informazioni, dal doppio slash in avanti, sono informazioni che vanno al driver specifico del database. E quindi è lui che sa come interpretante. Però ci sono alcuni casi, mi ricordo alcune configurazioni di Mac, in cui di sistema hanno già una versione di MySQL che usa il sistema operativo per i fatti suoi, che gira sulla 3.306. E quindi quando lanciate la vostra installazione di MariaDB, lui si prende una porta diversa. specie anche, soprattutto se volete XAMPP per lanciarlo. Quindi a volte, anche se non lo fate apposta, avete due versioni di MySQL che stanno girando sul vostro computer e bisogna specificare poi la porta giusta per essere sicuro di collegarsi alla distanza che vi serve. Lo dico così genericamente, anticipando i problemi che ci possono essere, poi ciascuno dovrà vedere come è configurata la propria macchina. Ok, qui fin qua arrivo al database, poi ho slash il nome del database stesso, perché nello stesso DBMS posso avere più database contemporaneamente, e poi le credenziali, punto interrogativo user uguale, e secondo parametro è commerciale password uguale il nome della password. Questi username e password non sono quelli del computer, non sono quelli del programma, non sono quelli dell'utente, sono quelli del database. Quindi quando avete installato MariaDB vi ha chiesto di creare un utente che si chiama root e avete specificato una password, che spero non l'abbiate dimenticato, che è la password dell'utente che ha tutti i privilegi, l'utente root dentro MySQL ha tutti i privilegi. Possiamo usare quello stesso utente oppure possiamo creare degli utenti specifici che magari hanno dei privilegi solamente su un single database. Quello è il set di credenziali con cui, innanzitutto verifico l'accesso, che io abbia il diritto di accedere a quel server, a quel database, e è il set di credenziali con cui verranno eseguite tutte le interrogazioni, tutte le query. Quindi se quell'utente ha la possibilità di fare una insert, perché gli ho dato i privilegi per farlo quando ho creato l'utente, allora la potrà fare, altrimenti darà errore. Noi almeno all'inizio useremo l'utente root e facciamo finta di niente, per non avere una complicazione in più. Però ovviamente nelle installazioni reali uno deve creare un utente normalmente che ha accesso solo a quel database su cui deve lavorare. E sceglie se quell'utente può solo leggere i dati oppure anche modificarli. Tutto questo sta codificato quando crediamo l'utente. Questo è il formato delle stringhe di connessione di MySQL. Se noi ci collegassimo un database diverso, fino a qui è tutto uguale chiaramente. Ovviamente cambia il nome di database, ma poi il formato con cui vengono specificati l'host, lo username e la password è diverso. Ogni costruttore di database sceglie il modo in cui preferisce che noi codifichiamo le informazioni. Alla fine le informazioni quelle sono. e quindi devo sapere dove sta il mio database in modo da poter costruire una stringa di connessione. Cosa me ne faccio di questa stringa di connessione? Oh questa è una stringa, è semplicemente una string in java. Cosa me ne faccio? Io la uso con un metodo che si chiama getConnection di una classe driver manager. L'avevamo visto in una figurina driver manager. Driver manager è quello che non è che fa molto lavoro, ma trova la classe driver giusta e la collega a tutti i metodi di interfaccia che chiameremo. quindi trova, aggancia le implementazioni dei metodi che ci servono. GetConnection è un metodo statico, lo vedete lo chiamo sulla classe, non c'è un new driver manager ma il driver manager è il nome della classe .getConnection è un metodo di factory, cioè costruisce una classe connection che io posso usare. costruisce, scusate, un oggetto di classe connection, non costruisce una classe, costruisce un oggetto di classe connection. Connection questa è la classe java.sql.connection. Noi non faremo mai in tutto l'utilizzo di JDBC, non useremo mai una volta il metodo new. Mai. Ma perché? Ma perché semplicemente le classi che dovremmo creare, per usarle, sono quelle del driver, implementate nella classe driver. Ma la classe driver noi non la conosciamo. E quindi noi avremo degli oggetti che sappiamo come funzionano perché implementano le interfacce definite in java.sql. Li possiamo usare questi oggetti, ma non li possiamo creare. Perché se scrivo new ho bisogno del nome della classe, e il nome della classe non lo so. non lo voglio sapere perché sarebbe specifico di ogni singolo database. E allora questi vari metodi, questi vari oggetti, implementeranno tutti delle factory che mi creano l'oggetto che mi serve. Allora, voglio una connessione, creo get connection che mi crea l'oggetto connessione. Mi crea l'oggetto com.mysql.jdbc.connection oppure mi creerà l'oggetto org.mysql.db.connexion eccetera eccetera. Non mi interessa la classe specifica ovviamente e il modo per crearle è affidarmi al driver manager che troverà la classe giusta dal driver effettivo che solo lui conosce. Quindi solo il driver manager conosce qual è il driver effettivo. Come fa a conoscerlo? Vabbè, andando a studiare questa stringa di connessione. Quindi lui vede le varie classi che implementano l'interfaccia di dbc e dice senti ma tu implementi per caso mysql lo supporti? No, io lo supporto ora. Vabbè, allora niente, non mi interessa in questo momento. E fa così fino a quando non trova la classe giusta che implementa il tipo di database che ci serve dopodiché istanzia quella classe e chiama il metodo per creare la connessione all'interno di quella classe. Come si chiama questo metodo non ci interessa. A noi interessa il metodo ad alto livello quello di driver manager. Quindi driver manager trova la classe, la crea, chiede alla classe di creare la connessione, la classe driver apre la connessione effettiva e quindi verifica che la connessione ci sia, che il server stia girando, che la password sia giusta, che il database selezionato esista e se si ritorna questo oggetto connection con cui farò tutto il resto del lavoro. Se invece uno dei tanti controlli che ho citato prima, esiste il server, sta girando la password, il database eccetera, non va a buon fine, questo metodo di connection mi spara un'eccezione, un SQL exception, un SQL exception e saranno tante. quindi abbiamo un codice di questo genere. Tante parole per una riga di codice. Connection, la chiamo come voglio, uguale driver manager, quindi punto get connection, chiamo il metodo statico della classe driver manager, passandogli come argomento la url JDBC, l'indirizzo JDBC. Se tutto va bene, mi ritorno un oggetto con. Se qualcuno va storto, mi genero un'eccezione di tipo SQL exception. Ovviamente gli import che sono sopra, come dicevamo, sono tutti di java.sql, non c'è nessuno da com.mysql. Questo è passo 1, aprire la connessione. Quindi cosa stiamo facendo? Noi application siamo qui, usiamo la classe driver manager chiedendogli di caricare una classe driver, questa qua c'è, la sappiamo che c'è ma non la vediamo. Questa classe driver crea un oggetto connection e questo oggetto connection viene restituito alla mia applicazione. Quindi noi abbiamo questo oggetto che è creato da driver grazie al favore che ci ha fatto driver manager. Fatto questo, di driver manager ce ne possiamo dimenticare e lavoreremo direttamente con connection. Perché a questo punto sa tutto. È già collegato al database, sa quale sia il database, quale sia l'utente, eccetera, eccetera. Erano sei passi, questo era il passo 1, prima di fare il passo 2 vi faccio vedere il passo 6, cioè l'ultimo, ricordarsi di chiudere la connessione alla fine del programma o quando non ci serve più. Non alla fine del programma, quando non ci serve più. Perché? Ma perché io apro una connessione con un database e sto usando una risorsa del database stesso. se io facessi mille query e per ogni query aprissi una singola connessione il database vedrebbe mille connessioni, mille richieste di connessione. Ma il database, l'implementazione del database ha un limite al numero massimo di connessioni contemporanee che può supportare. E quindi da un certo punto in avanti la gate connection fallirebbe dicendo guarda, il mio database dice no, no more connections. Ok? Una connessione è pensata per essere tenuta aperta solamente fin tanto che serve. Poi la devo liberare in modo che altri programmi o altre parti del suo programma possano anche essere usati del database. Cioè il database in qualche modo si protegge dicendo io ho un numero massimo di connessioni che posso gestire. Ok? Questo è un po' un retaggio questo concetto di connessione un po' strano nel nostro mondo che è più basato sul web quindi sulle singole ogni click fa qualcosa. Il mondo in cui l'idea era di avere un programma che tu arrivi al mattino alle 8 accendevi il computer, il tuo programma apriva la connessione con il database e quella connessione rimaneva aperta per tutto il giorno e tutte le operazioni che tu facevi con il tuo programma in quella giornata usavano la stessa connessione. A fine giornata spegni e chiudi la connessione. Quindi il mondo di database relazionali è un mondo orientato alle connessioni di lunga durata. È stato pensato così. E questo ci creerà problemi ma ci occupiamo tra due settimane dal punto di vista delle prestazioni. Mentre invece il mondo delle interfacce grafiche è invece un mondo in cui l'utente fa un click e lì in quel momento devo reagire, devo fare una query in quel momento. E quindi apri una connessione in quel momento e poi subito dopo non mi serve più perché magari poi il programma sta fermo per un'ora in cui senza che l'utente faccia nulla. peggio ancora nell'applicazione in web. Quindi ricordiamoci solo, io il consiglio che mi do è scrivere la close subito perché poi se no ce la dimentichiamo. Quindi quando faccio get connection la riga sotto scrivo connection punto close e poi tutto il resto del codice lo metto in mezzo tra la get connection e la close così sono sicuro di non dimenticare la close stessa. Altrimenti vi accorgete che il programma un po' gira poi si blocca e certo si blocca perché il database ha dato uno schiaffo dicendo non è che posso darti tutte queste connessioni e tenerle inutilizzate. Se lo dimenticate non è gravissimo nel senso che la connessione dopo un po' scade da sola quando il programma termina, però non scade immediatamente quando il programma termina perché quando il tuo programma java finisce muore però hai a livello di rete un socket aperto con il server e questo socket non c'è nessuno che lo sta chiudendo. Semplicemente è il sistema operativo che dopo un po' vede che questo socket ha da una delle due parti un processo che non esiste più e chiude il socket. ma questo può avere un time out di minuti. Quindi anche se tu il programma lo chiudi e lo riavvii lo riavvii sei volte e dopo la settima non funziona più. Ecco, questo è un sintomo del fatto che le esecuzioni precedenti hanno lasciato roba dietro e poi il sistema operativo con calma le libera però non instantaneamente. Ok, abbiamo una connessione? Allora, dentro questa connessione con il database vogliamo fare delle interrogazioni, delle query. Per fare delle query abbiamo bisogno di un oggetto e in questa connessione è possibile fare tante query. Come dicevo, teoricamente potrebbe aprirla connessione alle 8 del mattino o chiuderla alle 6 di sera. Dentro questa connessione magari in quella giornata viaggiano 10.000 interrogazioni diverse. Allora, l'interrogazione che cos'è? E' una stringa che io ti mando select asterisco from e ho dei risultati che tu mi restituisci. Quindi è una cosa che va e torna. Ogni singola query io ti mando un'istruzione in linguaggio SQL e tu mi dai il risultato, esegui quest'istruzione, se è corretta, se la sintassi è corretta, eccetera eccetera, e poi mi dai il risultato. Queste singole istruzioni SQL sono rappresentate in JDBC da un oggetto che si chiama statement. Java.sql.statement Uno statement è come se fosse una navetta, una barchetta che va avanti e indietro sulla connection che la possiamo immaginare come un canale, come un tubo. Quindi quando io voglio fare una nuova query, creo una nuova navetta, ci metto dentro la query e mando la navetta, lo statement, attraverso il tubo, attraverso la connection. Dall'altra parte del tubo, dall'altra parte della connection c'è il database, che estrarrà l'interrogazione, vede cosa voglio fare, frulla, esegue, e poi mi rimette dentro questa 6 navetta il risultato e lo rimando indietro, attraverso la connection. Avanti e indietro. Lo statement è il contenitore della query. E infatti io posso chiedere all'oggetto connection, che mi è arrivato dalla get connection precedente, di crearmi un nuovo oggetto statement, di nuovo factory. Ho creato un oggetto statement senza usare la new, ma chiedendo a un oggetto più grosso di creare uno statement collegato, connesso a quella connessione. Scusate il gioco di parole. Appartenente a quella connessione. Quella navetta non è che la posso mandare dove la voglio, devo mandare in quella connessione lì. Questo oggetto statement contiene, dentro l'oggetto statement, scriviamo la query. Select asterisco from utenti. Poi tra un attimo vedremo che non useremo esattamente una cosa che si chiama statement, ma un oggetto simile che si chiama prepare statement, ma per il momento non ci pensiamo. Quindi abbiamo creato questa navetta e poi a certo punto dobbiamo dire, va bene, dentro questa statement esegui una certa istruzione. Quindi l'oggetto statement contiene un metodo executeQuery, che ha come parametro la SQL che voglio eseguire. Quindi io dalla connection mi faccio creare uno statement e poi dirò statement punto executeQuery. Nel create statement non c'è la SQL qua come argomento, non c'è nessun argomento vuoto e quindi la query la devo dare dopo con il metodo execute. E qua dentro ci mettono il mio selector di quello che voglio. ExecuteQuery è quello che fa effettivamente il lavoro di prendere SQL e mandarlo al database, aspettare che il database faccia i suoi conti e aspettare che ritorna il risultato. E questo risultato lo metti in un altro oggetto di tipo result set. Qui noi abbiamo tre oggetti di cui abbiamo parlato finora. Connection, statement, result set. La result set non abbiamo ancora tanto parlato. Connection, va bene, contiene la connessione del database. Statement contiene la query. Result set contiene il risultato della query. Quindi siamo qua sotto, in questo diagramma delle classi. Alla connection abbiamo chiesto dammi uno statement. Connection crea l'oggetto statement. E l'oggetto statement gli passo la query e mi restituisce un result set. Result set è una classe che contiene i risultati della query stessa. Normalmente usiamo il metodo execute query. In realtà l'oggetto statement ha anche altri metodi. Perché execute query è pensato per eseguire delle interrogazioni di tipo select. Cioè che restituiscono effettivamente un risultato. Se invece volessimo eseguire delle query che modificano i dati anziché interrogarli, noi useremmo execute update come metodo di statement. Alla fine gli passo sempre un SQL. Ma la differenza è che nel primo caso ho come ritorno un result set, cioè i risultati della query. Negli altri casi come valore di torno non ho niente. Perché se faccio insert non è che non restituisce nulla questa interrogazione. E allora restituisce semplicemente un numero intero che mi dice quante righe ha modificato. Ovviamente. Oppure mi genera un'eccezione se non ci riesce ovviamente. Quindi. Sono due metodi leggermente diversi perché uno restituisce un result set con la select. L'altro restituisce un intero che rappresenta le righe modificate con le altre istruzioni. Poi se uno volesse riguire un'istruzione SQL che non è nessuna di queste quattro, non è select, insert, update o delete, c'è un metodo execute che accetta qualunque SQL che gli diate. Ma non avremmo quasi mai bisogno di usarlo. Quindi. Beh, questo è un esempio. Quindi noi avevamo una stringa per la connessione, ma adesso abbiamo una seconda stringa che è l'istruzione SQL da usare. La passiamo come argomento all'execute query e restituisce un oggetto result set. Saltiamo per un attimo queste due cose, poi ci torneremo. E poi abbiamo il risultato in mano. All'interno dell'oggetto result set. Allora, qui dobbiamo fare i conti con due cose. Ovviamente che sono legate al modo diverso di pensare, di esistere, di un programma Java, di un database relazionale. Quando voi fate una select in un database relazionale, che cos'è il risultato che ottenete? Una tabella. Una tabella fatta di un numero variabile di righe che potrebbero anche essere 100 milioni, oppure 0, e un numero fisso di colonne, perché ogni select mi dice quali sono le colonne, di tipi di dati diversi. Uno è un intero, l'altro è un varchar, l'altro è un date, quello che è. Allora, sta roba qua dobbiamo farla digerire da Java. Farla digerire in due modi. Uno è che le varie colonne hanno tipi diversi e io dentro che oggetto le metto? Che Java ha bisogno di conoscere il tipo di un oggetto per poterlo creare. Non posso dire, vabbè, le colonne. No. Un intero, una stringa, una data. Quindi devo avere il modo, in qualche modo, di riuscire a importare dentro il mio programma, leggere dentro il mio programma i dati, i risultati delle singole caselle della tabella risultante, forzando il tipo di dato giusto. Quindi questo è il primo problema. Il secondo problema è, dicevo, una tabella come risultato della query potrebbe essere anche lunga 10 mila. righe, 100 mila righe. Chi ha il database non fa un problema, perché il database lavora per insiemi. Cioè se lui la query fa 10 mila righe, non è che dentro il database lui si fa una coppia delle 10 mila righe. Internamente, i meccanismi interni del database si creano insieme con gli ID, con le chiavi primarie di questi qua, e mi crea una vista che contiene esattamente questi risultati. Quindi quei dati lì non li crea effettivamente. Però sarebbe un po' brutto, nel caso in cui un'interrogazione fosse, avesse un risultato molto grande, che l'intero risultato venisse trasferito dal database al programma Java. Perché mi fa subito scoppiare la memoria del programma Java e rallenta anche l'esecuzione della query, perché per trasferire 100 mila righe ci vorrà un certo tempo questo result set. Allora, qui non vogliamo, poi magari nei nostri casi ci sono solamente quattro risultati, ma come meccanismo generale non possiamo pensare che lui restituisca tutti insieme in botto. Allora, questo fa sì che chi ha pensato, chi ha progettato la classe del result set, ci abbia dato un metodo di accedere ai dati, ovviamente a tutti i dati della tabella che contiene il risultato della select, che è un po' l'equivalente di guardare dal buco della serratura. Cioè tu puoi vedere tutto, ma un pezzo per volta, un piccolo pezzettino per volta. Result set implementa, io prima ho detto un'imprecisione, ho detto la classe del result set contiene i risultati della query. No, abbiamo capito che non può, sia per due dimensioni che per due dimensioni di tipo di dato. La classe del result set contiene un meccanismo per accedere ai risultati, questo è più corretto. Questo meccanismo è basato su un cursore immaginario che si sposta avanti e indietro nella tabella dei risultati e sulla possibilità di accedere alle singole caselle della riga su cui il cursore è attualmente posizionato. Cioè, io ho una figurina qua. Immaginiamo che il risultato della query sia composto da questi dati qua. Questo qua sono solamente tre. Io non ho nessun metodo per dire dammi sta tabella. Però ho dei metodi, ho due tipi di metodi che sono implementati nella classe del result set. alcuni metodi che servono per spostare questo cursore immaginario. Ad esempio, il cursore è messo qua sulla prima riga. Lo posso spostare sulla seconda, lo posso spostare sulla terza e così via. Lo posso farlo andare avanti e indietro, spostare dove voglio. una volta che il cursore è posizionato in un certo punto, posso andare a leggere le varie colonne, ma solo di quella riga lì. Quindi se io voglio leggere questo dato qua, 6500, dovrò innanzitutto mettere il cursore sulla seconda riga e poi leggere il dato della terza colonna. Quindi ho due famiglie di metodi, metodi per lo spostamento del cursore e metodi per l'estrazione dei valori. I metodi per l'estrazione dei valori hanno tutti un nome del tipo get qualcosa. E questo qualcosa è il tipo di dato che voglio leggere. Quindi questo qua è un float, è un double, e quindi ci sarà un metodo che si chiama get double per restare questo dato. Questo è un intero e quindi ci sarà un metodo che si chiama get int per restare questo dato. Questo è una stringa e ci sarà un metodo get string per restare questo dato. Questo è il momento in cui io sto dicendo qual è il tipo di oggetto java che contiene un determinato campo della tabella. E per spostare il cursore ci sono vari metodi di cui il più semplice si chiama next, che vuol dire vai alla riga successiva. Quindi io parto dalla prima riga, leggo i dati. Prima colonna, get int, prima colonna, get string, seconda colonna, get double, terza colonna. Ho letto i dati, li memorizzo in un oggetto da qualche parte ovviamente. Li stampo, li visualizzo, faccio ciò che devo fare con questi dati. Next, result set punto next. Passa la seconda riga, anche lì estraggo la prima colonna, la seconda, la terza, li salvo. Next, prima, seconda, terza colonna, li salvo, eccetera, eccetera. Fino a quando il cursore mi dice, senti ciccio sono arrivato al fondo, non ce n'è più. Oppure fino a quando ho letto i dati che mi servono. Magari mi servono solamente i primi dieci, perché sto mostrando risultati dieci per volta, e quindi non è pure bisogno di leggerli tutti questi dati. Ok, questo cursore ha un comportamento un po' strano. Perché voi vi immaginate, tabella, vi seleziono una riga per volta. Quindi appena arriva al result set, quale sarà la riga selezionata dal cursore? Una persona sana di mente direbbe la prima. Ok? Invece no. JDBC ha detto, quando tu fai una query, il result set arriva, cioè appena ti arriva il result set, ti arriva col cursore posizionato su una riga immaginaria prima della prima riga. Vabbè, aveva bevuto. E quindi per leggere la prima riga devi almeno chiamare a next una volta. Poi dopo puoi leggere. Se provi a leggere subito, ti do errore perché stai cercando di leggere dei campi di una riga che, essendo immaginaria, non esiste. E poi vai avanti, il cursore si posizionerà next sulla prima riga, next sulla seconda, next sulla terza, e a un certo punto il cursore dopo l'ultima riga si posizionerà su una riga immaginaria dopo l'ultima. Quindi, se la mia tabella ha tre risultati, in realtà il cursore ha cinque posizioni possibili. Tre relative alle righe vere e due relative alle righe immaginarie. In realtà ci accorgiamo quando scriviamo il codice che non sono poi così ubriati, nel senso che ci fa comodo che sia così, proprio dal punto di vista pratico, operativo. Il motivo vero è che se io dicessi il cursore si posiziona sulla prima riga del risultato, non potrei supportare le query che non hanno nessun risultato. Select from where username uguale Pippo e se Pippo non c'è, questa tabella ha zero righe. E allora dovrei, in questo caso, se dovessi dire il cursore si posiziona sulla prima riga, la prima riga non c'è, dovrei dare un'eccezione. Ma perché devo dare un'eccezione per un caso completamente normale, cioè quello che una query restituisca zero risultati? E quindi per poter supportare questo fatto si sono inventati queste due posizioni. Anche una tabella con zero righe ha comunque due posizioni lecite per il cursore, prima della prima riga che non c'è e dopo l'ultima riga che non c'è, ma queste due posizioni prima di e dopo di esistono sempre. Le posizioni intermedie, che sono quelle dei dati veri, possono esistere o no, può essere 0, 1, 100,000. E quindi hanno inventato questo modo un po' strano di definire questo cursore, questo iteratore. Tutti questi movimenti del cursore li possiamo vedere se andiamo a vedere la classe ResultSet, che ha qualche decina di metodi, ma non ci saranno tutti, ma poi in realtà sono metodi che sono totalmente replicati. Ad esempio vediamo che qua c'è un metodo first che posiziona il cursore sulla prima riga. Prima riga quindi deve esistere. E infatti dice attenzione che ritorna vero se c'è la prima riga, falso se non ci sono righe. Ma questo è uno spostamento che tu fai. C'è il metodo che ci serve di più. next. Sposto il cursore avanti di una riga rispetto alla sua posizione corrente. Il cursore di un ResultSet è inizialmente posizionato prima della prima riga, quindi non vi ho raccontato delle balle. La prima chiamata al metodo next fa sì che la prima riga sia quella corrente. La seconda chiamata fa la seconda riga, eccetera, eccetera. Quando una chiamata al metodo next ritorna falso, quindi non genera eccezioni questo normalmente, ritorna falso, vuol dire che il cursore è posizionato dopo l'ultima riga. Quindi se io sono sull'ultima riga e chiamo ancora next, non si arrabbia. Posiziona il cursore sulla riga dopo l'ultima e mi restituisce falso, altrimenti mi restituisce sempre vero. se io fossi testarlo e chiamassi ancora il metodo next dopo che lui mi restituisce falso, ovviamente mi dà un'eccezione. Se cerco di andare avanti quando sono già nella riga dopo l'ultima. Ok, questo è il metodo che useremo di più. Poi ci sono, che non so, is last mi dice se sono sull'ultima riga. Oppure c'è un before. Come c'è il next, ovviamente c'è il previous per tornare indietro, ma lo useremo abbastanza poco. E poi ci sono dei metodi, ad esempio, come vedete qua, is before first. Mi dice se il cursore è nella riga prima della prima, oppure è dopo l'ultima, is after last. Mescolate agli altri, ci sono tutti questi metodi di spostamento. C'è un metodo relative che manda avanti o indietro di un certo numero di righe. Dove è andato relative? Qua. E c'è un metodo, vabbè, da qualche parte per posizionarlo anche in posizione assoluta. Questi sono tutti i metodi che sono riassunti qua. Next è il principale. E gli altri metodi che gestiscono la posizione del cursore. Mi dice dov'è, oppure lo sposta prima della prima riga, dopo l'ultima. Mi dice se è sulla prima, va sull'ultima, eccetera. No, li ho citati qua per completezza, ma vi dico già che nel 99% dei casi ci servirà solamente questo, perché avremo dei risultati e li vogliamo scorrere dal primo all'ultimo. Una volta che sono sulla riga che mi serve, dicevamo, devo estrarre i dati, con una serie di metodi get. Chiamo un metodo get per estrarre un dato di una colonna della riga corrente. Quindi se la mia tabella ha 7 colonne, come risultato chiamerò 7 volte get, passandogli come parametro l'indicazione della colonna che voglio leggere e chiamando il metodo get al posto di questa xxx specifico il tipo di dato che voglio ottenere. L'indicazione su quale colonna voglio leggere la posso dare in due modi. O con un numero di colonna, int, quando il parametro è un int, o con il nome di colonna, passandogli un parametro di tipo stringa. Assolutamente preferibile, perché a meno vedo quello del nome della colonna. E se cambiassi la qui, aggiungendo una colonna in più e una colonna in meno, se usassi i numeri ci sbala tutto. Se uso i nomi, invece, sono sicuro di che cosa pesco. Se uno volesse usare i numeri di colonna, attenzione che sono numeri che partono da 1 e non da 0. Motivo in più per non usarlo. E quindi qua si vede che c'è veramente una marea di metodi get. Ad esempio c'è un get string che è il più facile. Ce ne sono due. Quello che riceve come parametro l'indice di colonna, quello che riceve come parametro il nome di colonna. Vedete che il parametro è una volta int e l'altra volta è string. Entrambi ovviamente restituiscono un oggetto di tipo string. Questi sono tutti i metodi che chiamiamo sul result set. Se io avessi una colonna di tipo intero, prendo un get int. Get int numero di colonna o get int nome di colonna. E restituiscono ovviamente un valore intero. Se ho una data, chiamerò il metodo get date che restituisce un oggetto date. Non un oggetto local date, ma su questo ci lavoreremo. Se abbiamo un valore reale, chiameremo il metodo get double, che da qualche parte c'è in ordine alfabetico e dovrebbe essere qua. Che sempre partendo dal nome di una colonna, restituisce un valore di tipo double. Non un oggetto, un valore in questo caso. Primitivo. Quindi questi sono i metodi principali, questi quattro qua. Get string, get int, get date e get double. Che useremo per restare i dati, perché alla fine poi i tipi di dati che ci sono nella tabella sono questi quattro. Ovviamente c'è un lavoro di conversione di cui non andiamo a impazzire, perché non ci appassiona, tra un sistema di tipi di dati e un altro sistema di tipi di dati. Cioè SQL ha il suo sistema di tipi di dati, che sono questi. Java ha il suo sistema di tipi di dati e io ovviamente non potrò chiamare un get int su una colonna di tipo var char. Ma invece potrò chiamare get string su una colonna di tipo integer, perché la convertirà, è una conversione possibile. Quindi ci sono delle conversioni possibili e delle conversioni non possibili. Ad esempio una colonna di tipo char o var char chiaramente la posso convertire in string. Una colonna di tipo int, numeric, big int, quello che voglio, la posso convertire sicuramente in integer, in double, ma anche in string. Quindi ci sono, noi normalmente faremo la conversione più naturale, però ci sono tutte le combinazioni possibili, elencate, legittime. Addirittura questa tabella qua fa vedere quali sono tutti i possibili metodi che posso chiamare in funzione del tipo della colonna. Questi qua con la x in grassetto sono quelli naturali, diciamo così. Se è una colonna che contiene un intero chiamerò get int per estrarne il valore. Ok, l'ultimo, questo era il passo 5, estrai i dati, poi lo vediamo su un esempio per riuscire a digerire un pochino tutte queste nozioni. L'ultimo passo, in realtà il passo 6 lo conosciamo già, chiudi la connessione. La stessa connessione può essere usata con più statement. Quindi se devo fare 6 query di fila, non apro 6 connessioni una per ogni query, apro una connessione, faccio 6 statement, elaboro i result set di questi 6 statement e poi alla fine chiudo la connessione. Nel caso in cui io chiudo la connessione questa automaticamente rende non più utilizzabili tutti gli statement e tutti i result set che erano collegati a quella connessione lì. Perché non mi ricordarci che il result set non contiene i dati, contiene la modalità di accesso ai dati. Quindi ogni volta che facciamo un next, per dire, in un cursore del result set, può darsi che lui abbia bisogno di parlare col database per dire dammi la prossima riga. Ovviamente il driver gdbc non è così scemo da darmi una riga per volta, perché se no sarebbe lentissimo. Magari lui col primo pacchetto restituisce, si legge non so, 50 righe, mi fa vedere solo la prima, poi man mano che vado avanti col next lui prende le righe successive. È un'ottimizzazione sua interna, a me non interessa. Però le statement e il result set sono oggetti che possono funzionare solo fin tanto che sono collegati a una connessione attiva. Se la connessione, se creiamo una connessione che dura a lungo, sarebbe buona norma dire al database guarda questi risultati, questo result set non mi serve più. Quindi anche il result set è un metodo close, per dire ho finito di fare ciò che mi serviva con i risultati di questa query. Poi magari ti mando altre query in questa stessa connessione, però quella lì non mi serve più. E così il database, se vuole, può liberarsi le sue risorse interne che aveva tenuto da parte per potermi rispondere a quella result set. Ma se non lo faccio, come noi ci è fatto, non faremo mai della connessione in lunga durata, quando faccio la close della connessione lei automaticamente libera le risorse della connessione e di tutti gli statement che sono stati aperti su quella connessione. Ok. Proviamo a mettere questo in pratica. Allora, andiamo a prendere, e lo facciamo per gradi, io prenderei il solito esercizio del libretto dei voti, ok, e proviamo questa volta a far sì che i voti vengano memorizzati non dentro una lista, ma direttamente nel database. O meglio, che quella lista venga caricata e salvata poi su un database. Allora, la prima cosa che devo fare, perché in questo progetto non c'era, è aggiungermi la dipendenza, perché io ero partito da un archetico molto, diciamo così, magro, minimale, devo aggiungermi la dipendenza per il connector, quindi lo vado a rubare da qua, dentro il pom.xml, dove sono le dipendenze, qua. in cui ci metto anche MariaDB. Quindi ho aggiunto queste tre righe al file pom.xml, queste quattro righe. Fate attenzione che dovete metterlo dentro il blocco che si chiama dependencies al plurale, però fuori dagli altri blocchi che si chiamano, a fianco, diciamo così, degli altri blocchi che si chiamano dependencies. Quindi la struttura del file contiene una sezione dependencies plurale con tanti blocchi dependency singolare. Quindi salvando questo, lui a un certo punto, vedo che le dipendenze maven si popolano, si aggiunge roba, perché lui nel frattempo ha scaricato la dipendenza di MySQL. Il bello di Maven, del pom.xml, è che quando poi voi vi scaricate magari un progetto, il pom trova già le indicazioni, quindi non dovete aggiungerlo voi. Noi quello che faremo anche nei laboratori, anche nell'esame, vi diamo già un progetto già configurato con le librerie che servono, quindi non dovrete mai andare a mano a modificare il pom.xml. però adesso siamo partiti da un progetto in cui non c'era, anche per vedere come funziona. E quindi adesso questo mio progetto è pronto per potersi collegare a un database MariaDB oppure MySQL. Peccato che non ce l'abbiamo, no? Questo database. Allora, prima di collegarci, dobbiamo creare un piccolo database in cui ci sia questa tabella che contiene i voti. Dobbiamo creare il database con le sue tabelle, con dei dati di prova eventualmente. Allora, come faccio a crearlo? Vabbè, tutti voi siete reduci l'anno scorso nel corso di base di dati, quindi a memoria, a menadito, mi saprete dire la sintassi di CreateStable, perché era una tabella con più colonne, di tipi diversi, con le chiavi primarie, eccetera, eccetera. Ma io che non sono così fresco, preferisco usare un programmino che mi aiuti a gestire le tabelle del database. E questo è il motivo per cui, per chi usa Windows, abbiamo suggerito di installare questo programmino che si chiama IDSQL. Purtroppo non ce n'è uno carino così per me, che abbiamo trovato SQL Pro, che forse è meno peggio, ma se ne trovate di più carini, ditecelo così, aggiorniamo il suggerimento, per chi usa il Mac. Che cos'è questo IDSQL o SQL Pro? Sono dei front-end grafici per gestire database. Volendo ce n'è anche uno che possiamo inserire e installare come plugin di Eclipse, lo si chiama Dbeaver, se volete farlo lo potete installare dentro Eclipse, è un pochino più macchinoso secondo me da usare, come tutto nel mondo di Eclipse ovviamente, però si può anche fare senza mai uscire da Eclipse. Ma io trovo molto comodo questo qua perché è leggero e veloce, però almeno sotto Windows. Allora, ricordiamoci che stiamo lavorando con un database. Quindi, il database è un servizio che sta girando sul vostro computer. Dal giorno in cui l'avete installato, c'è un programma che si chiama MariaDB o MySQL che sta girando come servizio sul vostro computer. Sempre stato lì, non l'avete mai usato, ma sta girando. Accetta già connessioni, accetta già query, può fare il suo lavoro. Semplicemente non lo stiamo usando. Questo è un programma, come potrebbe essere un nostro programma Java, che si collega a quel database e fa cose. Ok? Quindi, come a volte sento dire, ID SQL non è il database. Ok? ID è un programma che si collega al database che deve girare. Quindi, se la connessione non parte, non c'è, anche il programma Java non parte, è problema del servizio. Ad esempio, su Windows, se uno lo può vedere, nella tabella dei servizi, dal pannello di controllo, a un certo punto c'è un servizio, più giù, più giù, più giù, che si chiama MariaDB, che è stato creato quando io ho installato MariaDB su questo computer. E lui mi dice che sta running, sta girando, con avvio automatico. Quindi si avvia da solo quando accendo il computer. Magari qualcuno l'ha installato come avvio manuale, quindi ogni volta deve fare start o stop del servizio. Qui, MariaDB da solo non ha nessuna interfaccia grafica. Lui parte e gira come servizio di sistema. E quindi l'ultimo modo di controllarlo è attraverso il sistema operativo. Se questo sta girando, bene. Se avete usato XAMPP, che state usando col corso di progettazione web, allora lì, dentro XAMPP, c'è la funzionalità per avviare MySQL o MariaDB. Quindi in quel caso lo avviate non attraverso i servizi di sistema operativo, ma lo avviate attraverso l'interfaccina di XAMPP. L'importante è che prima di fare qualunque cosa noi siamo sicuri che questo database stia girando. Sia avviato, altrimenti stiamo parlando col nulla. Allora, se funziona, allora io apro una nuova connessione. Con ID posso scegliere quale tipo di database usare, MariaDB, MySQL, eccetera, una certa serie di database supportati da ID e SQL. E una voce è MariaDB oppure MySQL. Su quale computer sta girando il server? In questo caso va bene, 127.0.0.1, che è la stessa cosa che scrive localhost. e poi mi chiede quale utente e quale password usare per collegarmi al database. Alla prima avvio, alla prima installazione, abbiamo creato un utente solo che si chiama root con una password che avete indicato quando avete installato il programma. Io, visto che dobbiamo condividere le cose, e quindi devo per forza disinteressarmi della sicurezza, ho messo come password root. Ma nella vita reale non fatelo mai. Attenzione, se state usando XAMPP, l'utente root non ha password. E quindi non dovete metterla. Fatto questo, io posso fare apri e a questo punto, questa operazione in ID SQL di apri è la stessa operazione di connettersi in un database. Da questo momento in poi, ID è collegato al database e fa vedere una serie di database che ci sono caricati qua, che tipicamente sono quelli dei vostri lavori che fate, che devo correggere, o i vari esercizi che faremo. Ovviamente, se voi avete appena installato, non vedete tutta questa roba qua, vedete solamente i due database predefiniti di MariaDB. Ogni database è qua, è fatto di tabelle. Purtroppo ID non si riesce a ingrandire l'interfaccia. Le query sì, ma l'interfaccia no. Qui a sinistra stiamo navigando localhost, che ha tanti database, ciascun database è fatto di tabelle. Di ciascuna tabella che io ho selezionato sull'albero di sinistra, posso vedere vari tipi di informazioni. In particolare, posso vedere questa visione base, che è la struttura della tabella, oppure i dati, che sono i dati contenuti nella tabella. Quindi posso in modo interattivo navigare e posso in una casellina che si chiama query scrivere un'interrogazione. Select asterisco from che è una tabella che si chiama squadra, lo eseguo e mi dà sotto il risultato di questa interrogazione. Quindi è un modo interattivo, molto diretto, molto veloce di provare una query, vedere come è fatto il database, modificarlo, eccetera, eccetera. E la cosa che ci può anche servire è che nella finestra qua sotto, che adesso riuscirò a spostare, mi fa vedere tutti i comandi che lui usa per parlare con il database. Perché ogni volta che io faccio un click per vedere quali sono le tabelle, eccetera, ID SQL non lo sa, però ha una connessione aperta con il database e gli chiede l'informazione che gli serve. Questo è utile anche quando magari creiamo una tabella, la creiamo in modo grafico, poi quando schiacciamo il bottoncino crea, salva, qui sotto compare la query con la sintassi giusta, create table, semmai ci dovesse servire. Quindi ci serve anche per aiutarci a ripassare la sintassi SQL. Allora, cosa dobbiamo fare noi? Proviamo a crearci un primo nuovo database che contenga i dati dei nostri libretto vuoti. Ok? Quindi creo il porto sull'inizio dell'albero che è la connessione e creo un nuovo database. Ok? Crea un nuovo database e mi chiede come si chiama questo database libretto vuoti. Quando faccio ok lui mi crea un nuovo database che si chiama libretto vuoti che è qua insieme agli altri. Sotto mi ha anche fatto vedere l'istruzione che ha eseguito. Ok? Qui tasto destro nuovo se non vi compare il database è perché non siete nel punto giusto. Per creare un nuovo database chiaramente mi devo mettere sulla radice dell'albero dove c'è l'icona della connessione con MariaDB. Nuovo database. Ok. Dentro il libretto vuoti adesso il database se ti clicco sopra è vuoto. Cioè non contiene nessuna tabella. ovviamente dobbiamo creare una tabella che contenga le informazioni che ci servono. Le informazioni che servono per rappresentare la classe voto. Cioè sarà un elenco di voto. Quindi una tabella con tre colonne il nome del corso i punti la data. Questi sono i oggetti in Java con cui voglio lavorare. Se voglio salvare questi oggetti in un database creerò una tabella corrispondente. Allora per creare la tabella il modo più comodo è quello di usare anche qua interattivamente nuova tabella la tabella la possiamo chiamare vuoto e qua aggiungo le colonne. Quindi avrò una colonna che si chiama corso di tipo stringa quindi vediamo un po' i tipi testo potrebbe essere un var char di 50 caratteri può andare bene aggiungi una colonna che si chiama punti giusto punti che è una colonna di tipo intero quindi seleziono il tipo di dato dobbiamo combinare dove è intero int e poi aggiungo una terza colonna che è la data e quindi qua sarà di tipo date ad esempio qui man mano interattivamente mi creo la struttura della tabella specificando aggiungi rimuovi le varie colonne nome della colonna tipo di dati nel caso in cui ci sia necessità nel caso del var char la lunghezza del dato o la colonna null o not null quindi se è selezionato può accettare dei null se è deselezionato non può accettare nessun null eventualmente valore di default predefinito eccetera poi qua in ogni momento se voglio posso andare a vedere qui sto editando in modo interattivo non ho ancora fatto nulla nel database fino a quando non faccio salva questo non viene salvato nel database proprio solo lavorando a livello grafico però mi sta facendo vedere se io vado qua su codice create mi fa vedere l'istruzione SQL che corrisponde a ciò che ho fatto però noi non abbiamo bisogno di di scriverla noi questa istruzione no? quindi diciamo così in un voto nel corso nei punti nella data non possono essere null quindi li togliamo e poi manca ancora una cosa che una tabella che si rispetti deve avere una chiave primaria allora come facciamo a specificare una chiave primaria basta andare sulla riga che corrisponde alla chiave primaria e tasto destro crea nuovo indice primary che è possibile chiamare creare una chiave primaria una chiave unica oppure anche delle chiavi esterne le vedremo quando avremo più tabelle per mantenere l'integrità referenziale adesso noi dovremmo decidere se il nome del corso è la chiave primaria oppure no perché o usiamo uno dei campi che esistono come chiave primaria oppure aggiungiamo un campo ulteriore id e useremo che sarà un numerico auto incrementante e useremo quello come chiave primaria dipende dai casi questo fa parte della progettazione del database a differenza di quello che avevamo nel corso di base di dati in cui progettavate un database sotto strette rigide specifiche e quindi la soluzione doveva essere esattamente quella qui le specifiche in qualche modo ce le stiamo dando noi le stiamo deducendo dal contesto del problema e quindi ci sono tante micro scelte da fare che aspettano noi nessun altro ce le fa per questo caso non complichiamoci la vita aggiungiamo pure la chiave primaria a questo corso alla colonna che si chiama corso quindi quando faccio salva lui frulla un pochino e alla fine mi ha creato nella database tabello libretto voti una tabella che si chiama voto con la struttura che ho appena deciso se vado a vedere i dati ovviamente è vuota quindi io con ID posso fare alla fine tre cose creare e gestire le tabelle qui volendo la posso modificare quindi farò di nuovo salva lui farà l'alter table per aggiungere e togliere le cose posso vedere i dati e anche inserirli manualmente e posso fare delle interrogazioni nell'etichetta query scrivo l'interrogazione e poi la eseguo sono questi tre momenti ecco se vogliamo inserire dei dati di prova per poi testare l'interrogazione di questi dati da parte del database c'è questo tastino qua inserisce una riga nella tabella e quindi in questo caso mi dice il corso di tecnica di programmazione punti 29 in data qui mi fa scegliere la data vediamo che oggi può andare bene posso aggiungere un'altra riga mettiamo sempre analisi 1 perché lascia il segno 23 questo qua diciamo l'abbiamo fatto l'anno scorso e poi ci mettiamo boh non so chimica che abbiamo fatto due anni fa cosa è a caso non ho messo tutto di 30 perché se no è noioso man mano che vado avanti vedete che qua sotto lui sta facendo l'insert insert insert dei vari dati in ogni momento la visione che ho qua è sincronizzata con l'effettivo contenuto del database allora adesso abbiamo finalmente una un database che contiene una tabella che contiene un po' di dati relativi al nostro libretto allora ciò che possiamo imparare a fare come prima operazione è quella di fare in modo che nel programma java all'avvio anziché partire con un libretto vuoto partiamo con un libretto che carica da questi dati qua e quindi ci impariamo a leggere i contenuti adesso qui li vediamo qua ma il programma java purtroppo non ce l'ha dovremo aggiungere delle operazioni lo faremo magari prima in una classe a parte per provare visto che è la prima volta e poi cercheremo poi di inserire questa classe all'interno del resto del programma che avevamo già fatto con l'interfaccia grafica eccetera ok quindi armati di questo piccolo database che abbiamo fatto e delle cose che vi ho raccontato prima dopo l'intervallo proviamo effettivamente a mettere in pratica a fare questa query e inserire nel programma così se qualcuno ha i problemi ancora diciamo così a costruire questo database abbiamo un quarto d'ora di tempo per cercare di sistemare